Mary Jane afmr ok tutte queste persone le ho fatte dormire ottima ottima cosa mi posso ritenere soddisfatta un'altra missione è stata compiuta ehi, ciao ciao, piacere mio piacere, suppongo mi conosci già perché sei qui non riesci a dormire? no, già non ti da fastidio ferro la mia luna che si sta lavando? i suoi mouth sound sono questi va bene, torniamo a noi allora, mi hai detto che non riesci a dormire hai provato a guardare i miei video? ah sì, qualche volta ti sei addormentato? ah ok 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 allora adesso sei qui perché vuoi sperimentare dal vivo l'asmr bene, mi fa piacere mi fa piacere ora io ti farò rilassare come si deve e ti farò sperimentare dal vivo questa situazione dell'asmr però ho per te un dono speciale anche se farò sml su di te io voglio che tu indossi questi auricolari eccoli qua, vedi? sono anche carichi sì, perché voglio che allo stesso tempo tu udisca proprio i suoni del microfono ok? allora che dici? iniziamo? iniziamo con questi auricolari te li mostro più da vicino tu andrai a sentire anche se siamo dal vivo la sensazione dell'asmr in cuffia come quando sei a casa sarà un'esperienza sensoriale dal vivo diversa chiaramente però comunque io ti farò mettere le auricolari ok? 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 ok schiuma ossigenante con microarga delicata sul viso, questa è un'acqua che diventa una schiuma. Voglio farti sentire la sensazione tattile di queste spugnette. Allora adesso andiamo a detargere il viso, con le spugnette, bisogna farlo delicatamente bisogna farlo, ok? Allora proverai questa esperienza dell'ASMR dal vivo, però contemporanea. Quando gli auricolari addosso sentirai sempre tutti i suoni come li senti da casa, ok? però sarà un'esperienza sensoriale ancora più bella perché è dal vivo. Ok, poi questa schiuma che deterge il viso. Sai come verrà via? La toglieremo semplicemente con dei pennelli. I pennelli da trucco, sì, la rimuoveremo con quella. È una detersione speciale, questa è una schiuma speciale. più sentire la tutta di suoni. come ti senti? inizi già a rilassarti? non ti preoccupare per le mie mani si asciugano, ho una pizzica ok questa sarà un'esperienza diversa dalle altre finora hai visto l'SML da casa, adesso lo stai provando dal mio ok adesso andrò a rimuovere la detersione fatta con questi pennelli anzi con questo pennello asciutto tu lo sentirai passare sul viso e grazie agli auricolari che ti ho messo riuscirai anche a sentire il suono del passaggio sul viso del pennello rimuoviamo tutta la skew non è tutto non è tutto non è tutto non è tutto Grazie a tutti. Com'è questa sensazione che stai provando? Tornerai di nuovo qui nel mio centro. Resta bello. Sentire il suono del passaggio sul viso della pennella. Ti rilassa. Sono contenta. Ok. Abbiamo rimosso la schiuma. Hai già un po' di sonno? Quando fai fatica a dormire, mi raccomando, torna spesso a guardarli i miei video così riesci a dormire. Allora un'altra esperienza che puoi provare dal vivo. Ora che sei qua, ti posto la spazzola tra i capelli. come un bel lì, l'arriano. Come un bel lì, lì. ti petti nei capelli per bene senti il suono della spazzola e il passaggio della spazzola tra i capelli esperienza top ok dato che ci siamo dato che ci siamo ad un mese a posto anche i capelli ora hai sentito un po' la sensazione su te stesso di essere toccato ora ti voglio far vedere da vicino il tapping sulle unghie perché io quando guardo i video su youtube se vedo il tapping sulle unghie fatto così quasi da vicino comunque da vicino io mi rilasso un po' sia fatto in maniera lenta che in maniera veloce prova a concentrarti sulle unghie cosa ne pensi? poi il petto anche dal vivo veloce letto un'altra cosa che ti voglio far vedere qui ora che sei qua dal vivo con me e il trascinamento ti voglio far sentire il trascinamento delle unghie sulla mia pelle lo puoi sentire? anche tra i miei capelli senti? dimmi se non ti rilassa lo stesso hai tanto sonno? ma non credevo che potesse fare tutto questo effetto già così rapidamente quindi concentrandoti guardando le mie dita che passano sulla pelle tra i capelli su alcune zone particolari del viso ti sentirai immediatamente rilassato non è forse così? senti pure il suono delle unghie che si trascinare sulla pelle il fidgete credo si dica così quante volte l'hai visto nei video? e ora te lo faccio dal vivo e lo puoi anche sentire e lo puoi anche sentire impossibile stai provando ok però vedo che la palpebra a te inizia a calare anche a me che ne dici? cose semplici e rilassanti allo stesso tempo il tocco delle mie dita sul tuo viso questo è per salutarti e comunque sai che ti aspetto qui di nuovo se vorrai un smr dal vivo e lo sai già questo? lo sai già lo sai già ok 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 sono riuscita a compiere il mio lavoro anche dal vivo sono molto contenta che tu ti sia riuscita a rilassare oggi stavi quasi dimenticando le auricolari guardate le auricolari sono magici grazie a loro ci rilassiamo bene beh passaparola tra i tuoi amici e di rilassare e di venire qua se hanno bisogno di rilassarsi e dormire ok ciao 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 fate